Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming In questo video vi illustrerò i metodi per guadagnare denaro in Shenmue 3 nella città di Nihau Vi sono vari metodi, alcuni li avrete sicuramente già trovati nel villaggio di Baiyu, altri sono inediti Il primo metodo è tagliare la legna C'è un luogo dove farlo, praticamente una volta fuori dall'hotel, che è questo Dirigetevi qui e dietro questi cartelloni e giochi troverete il tizio che vi permetterà di tagliare la legna Quindi parlate con lui e iniziate a tagliare la legna per fare qualche soldo Un altro metodo è quello di giocare a questi giochetti e quindi scommettere denaro Potete trovare questi giochi d'azzardo in giro per la città Altro metodo, che è quello che vi consiglio maggiormente, è quello di lavorare come scaricatore di porto qui Quindi una volta che avete avanzato con la storia, quindi siete arrivati ad un certo punto della storia Vi troverete di fronte questo personaggio all'interno di questo edificio che vi assegnerà il lavoro da scaricatore di porto In altre parole, con il carretto dovrete caricare e scaricare i prodotti dal magazzino alla nave e viceversa Un altro metodo è quello di vendere le erbe Nella città purtroppo le erbe non sono presenti a quantità industriale come nel villaggio di Bailu Un luogo per trovare alcune erbette è qui praticamente, dietro l'hotel, vi è questa sorta di giardino Dove ogni tanto sbuca qualche pianta, qualche erba, quindi fatevi un giro nel giardino e vedete se c'è qualcosa da raccogliere Ci sono diversi luoghi nella città dove potete raccogliere le erbe Ma naturalmente non sono numerosi come il villaggio di Bailu, anche perché lì era praticamente aperta campagna Una volta che avete raccolto il maggior numero di piante possibili dovete venderle Quindi recatevi in questo negozio che vi mostro Dove potete appunto fare qualche soldo dalla vendita delle erbe Come vi ho anticipato in un altro video In qualsiasi momento premendo il menu di pausa e andando su set di erbe potete vedere se avete delle erbe da vendere Io non ne ho nessuna, infatti come vedete una volta che avete completato un set Qui si sblocca la medicina e potete venderla Quindi raccogliete quante più erbe possibili Dopodiché andate nel menu di pausa e da lì potete vedere se ci sono delle erbe o meglio dire dei medicinali da vendere Quindi recatevi a questo negozio che vi mostrerò tra poco Questo E qui potete vendere diciamo le medicine Quindi attendete che il venditore compaia Purtroppo nella versione playstation 4 i caricamenti sono lenti Ok eccolo E quindi parlando con questo venditore potete vendere le erbe Un altro metodo per fare denaro è quello di diciamo lavorare come raccoglitore di oche Quindi andate nel luogo che vi mostro che è abbastanza distante dall'hotel Dovete diciamo sbloccarlo nel corso della storia E una volta sul posto dovete diciamo dialogare con l'uomo che trovate per fare questo lavoro Adesso vi mostro dove andare E' abbastanza lontanuccio rispetto all'hotel ma se correte ce la fate in pochi minuti Quindi ecco qui ad esempio potete raccogliere delle erbe Vedete E diciamo ogni volta che vi imbattete in luoghi erbosi potete raccogliere le erbe Questa diciamo è una zona un po' più di campagna rispetto magari la città Quindi se vi trovate qui potete approfittarne Entrate qui Entrate nel recinto e parlate con il tizio che c'è al suo interno E vi assegnerà il lavoro Un ultimo metodo per guadagnare denaro naturalmente è la pesca Quindi andate in un negozio dove noleggiano canne da pesca Se non mi sbaglio lo trovate da queste parti Oppure in un altro quartiere che adesso vi mostro E quindi iniziate a pescare dove potete farlo ovviamente E poi vendete i pesci che avete appena pescato Quindi in questo modo diciamo potete fare denaro in Shenmue 3 Nella città di Ni Hao E quindi diciamo con il denaro accumulato fare lo shopping E quindi acquistare capi di abbigliamento Pergamene, cibarie, medicine e quanto altro ancora Ora se non erro il noleggiatore di canne da pesca è comunque da queste parti Dovete farvi un giro Io non ricordo esattamente dove Però diciamo ci sono dei negozi che vi permettono di noleggiare delle canne da pesca E naturalmente acquistare anche ami e quant'altro La città è molto vasta come potete vedere ci sono davvero tanti negozi Quindi diciamo fatevi un giro E troverete sicuramente dei negozianti disposti magari ad acquistare i vostri oggetti Le vostre erbe e così via dicendo Come vedete la città si estende anche di qui Dove potete trovare sempre quelle erbette di cui vi ho parlato E troverete inoltre altri commercianti Quindi se scendete in basso qui Troverete altri venditori e locali vari Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming E per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento E per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento